Le parole di Giuliacci sono un avvertimento cupo e angosciante, preannunciando un cambiamento climatico che presto si abbatterà su di noi. Rimani con noi perché, tra poche ore, ci troveremo ad affrontare qualcosa di straordinariamente intenso. Cosa riserva il cielo all'Italia nel prossimo weekend? Scopriamolo insieme in questo aggiornamento meteorologico. Ma prima di immergerci nei dettagli, se non l'hai già fatto, assicurati di iscriverti al nostro canale Notizie Live Stream e attivare la campanella delle notifiche. Il nostro amato Paese si prepara ad affrontare un capitolo meteorologico coinvolgente e imprevedibile. Un intricato corridoio di correnti umide nel Mediterraneo ha scatenato un balletto meteorologico, portando con sé piogge temporali e la promessa della prima neve nel weekend. Le regioni centro-meridionali saranno le protagoniste principali di questo spettacolo atmosferico, con rovesci sparsi che dipingeranno di fresco le nostre città. Le Alpi, guardiani maestosi del nostro paesaggio, si vedranno coinvolte in questo cambiamento, promettendo un'incredibile cornice di paesaggi imbiancati. Tuttavia, come ogni grande spettacolo, c'è sempre una svolta nella trama. Un raggio di speranza si intravede già nella serata dell'11 novembre, quando le nuvole daranno spazio a un temporaneo miglioramento. Sarà come un respiro profondo dopo una tempesta, una pausa che ci permetterà di riflettere sulla bellezza mutevole della natura. Ma, come spesso accade, la stabilità sarà solo un'illusione temporanea, poiché un nuovo atto meteorologico è in agguato, pronto a scatenarsi sulla nostra penisola. E voi? Come affronterete il clima autunnale che ci aspetta? Commentate qui sotto con le vostre previsioni personali o esperienze legate al meteo? Il respiro profondo che abbiamo preso l'11 novembre si rivelerà, purtroppo, solo come una breve pausa tra gli atti di questo dramma meteorologico. La domanda che ora sorge è quanto durerà questa illusione di tranquillità. Preparatevi, perché a partire dal 12 novembre, un nuovo capitolo di maltempo raggiungerà la nostra penisola con una forza rinnovata. Le regioni nord-occidentali saranno teatro principale di questo nuovo atto, dove rovesci e temporali si presenteranno con una determinazione rinnovata. Come protagonisti indifesi di questa storia meteorologica, saremo nuovamente chiamati a fare i conti con una natura capricciosa e imprevedibile. Se stai apprezzando queste notizie e vuoi rimanere sempre informato, iscriviti al nostro canale Notizie Live Stream e attiva la campanella delle notifiche. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale. Immersi in questa suggestiva danza atmosferica, il cielo si presenta come un artista enigmatico, dipingendo il suo capolavoro con pennellate di nuvole e colori mutevoli. Questa coreografia celeste alterna momenti di calma, dove il cielo si distende in un tranquillo scenario, a raffiche di emozioni meteorologiche, dove la natura stessa sembra esprimere la sua voce più potente. Siamo spettatori di un dramma celeste in continua evoluzione, e ogni nuvola, ogni goccia di pioggia e ogni raggio di sole è un attore in questo spettacolo senza fine. Mentre il vento intreccia le sue melodie tra le fronde degli alberi e la pioggia danza leggera sulle superfici, siamo testimoni di una performance unica, eterea ed eternamente mutevole. Rimanete sintonizzati, perché la nostra avventura meteorologica è ancora lungi dall'essere conclusa. Ogni istante è un nuovo capitolo di questa storia senza fine, scritta dal cielo stesso. Continueremo a navigare tra le sfumature di questa narrazione atmosferica, consapevoli che ogni variazione è un'opportunità per apprezzare la maestosità della natura e della sua inarrestabile forza espressiva.